Salve a tutti ragazzi, qui TTT e benvenuti in questo nuovo video di Dokkan Battle Oggi andiamo finalmente a fare i due Dokkan Awakening su i due personaggi della Baby Saga dell'evento Baby Saga, cioè Vegeta e Goten Andiamo subito a vederli, Team Character List, eccoli qua Ecco Vegeta, che è già portato a SSR e maxato e poi Goten Ma prima di fare i due Dokkan Awakening ci manca da fare una singola missione per i punti per prendere l'ultima medaglia per il Dokkan Andiamo ragazzi, evento Ok, Dragon Ball GT Baby Saga Facciamo l'ultima missione ragazzi, perché mi mancano ancora pochi punti Satan Andiamo subito, Zetard Tanto questa missione è molto veloce E prendiamo anche questo Vegito, mi piace Ok, andiamo Ok ragazzi, andiamo velocemente da Mr. Satan Mi basta vincere una volta e riusciamo a prendere i punti che ci servono Me ne mancavano dieci, quindi cioè, bene o male, va bene qualsiasi missione Ho deciso di fare l'ultima, solamente perché è l'ultima missione Allora, andiamo giù, vediamo Training item found, vabbè Uh, eh, non ci riesco nemmeno ad arrivare Vabbè, andiamo giù Andiamo a combattere contro Mr. Satan ragazzi Ok, prendiamo ste Awakening Medal Anche se non ci servono Prendiamo anche questo perché comunque è molto raro E andiamo Andiamo a sfidare Mr. Satan e Majin Bu Ok, allora vediamo Uh, partiamo subito con Vegito Peccato che non ho un counter veloce per Eh, no vabbè, ci posso usare Goku Facciamo così, tanto Ok E ora invece per Vegito Perché tanto so già che appena colpisce fa un male Assurdo, infatti 30.000 di danno Eh, te Goten Vai di rosso che sei inutile Ok, fatto Vediamo un po' Rolling Hercules Punch Wow Le super mosse di Mr. Satan ragazzi Wow però Non gli ho fatto niente Vai Vegito Spirit Sword Mamma mia 100.000 di danno Oh mio Dio Ok Allora andiamo su Boo Con le palle verdi Con Gohan Perfetto Non sarà il massimo Ma comunque visto che è super hint Gli facciamo un po' più di danno E direi Che 22.000 di vita Oh oh Attaccano tutte e due ora Facciamo una cosa Evitiamo l'attacco in questo turno Ok Andato Va bene Eh, allora Facciamo una cosa Attacchiamo Mr. Satan da ucciderlo Così ce lo togliamo dalle balle Anche te Gohan usa quelle viola Tanto sono inutili Ok Speriamo in Gohan Ah, solo 6.000 di danno Vabbè Non lo riusciremo mai ad eliminare Ora In questo turno Però almeno li abbiamo Bloccato l'attacco E attaccano di nuovo qua Aia Allora vediamo un po' Vediamo un po' Allora Attaccano qua Metto qua così Il problema È che Oddio Non so se riuscirò a sopravvivere Vabbè Attacchiamo Mr. Satan In questo modo E Con le gialle No Sì Con la singola gialla Vegeta E poi Majin Buu Vai con le verdi Vegito Devi scassare i culi Perfetto Due super attack Oh Quasi è andato No Non è ancora morto Ragazzi Vabbè Majin Buu Vattene via Spirit Sword Ciao ciao Mamma mia Ok Devo stare attento Ora Vediamo un po' 5000 Ok ok Dobbiamo per forza Usare un Senzu Bean E ricaricare la vita Se no non ce la facciamo Allora direi che Con Goten Ragazzi Eliminiamo Mr. Satan Sì Via dai coglioni Mr. Satan Ciao ciao Ok Dovrebbe essere morto Ora invece Pesantemente Andiamo su Majin Buu Però prima facciamo così Eh no Però è un counter Vabbè Facciamo così Sto punto Spero solo che riesca a stunnarlo Per favore Stunna Wis Stunna Majin Buu Vediamo un po' Cosa succede Ok Mr. Satan è andato Perfetto Enemy attack Mi ha tolto un pochino Eh Non gli facciamo danno Ragazzi Vabbè Gohan Allora facciamo così Prima Vai diretto Una Kamamea Perfetto Super attack Vediamo se riusciamo Anche con Gohan Anche se non credo No invece sì Super attack Due super attack E invece Te Vegeta Te Vegeta Prendi queste qua Non riusciamo a fare Tre super attack Ma Comunque Ci riusciamo A ucciderlo Forse Forse riusciamo Ventimila No Dobbiamo aspettare L'attacco di Di Vegito Ragazzi Ok Sì Bisogna Bisogna che arrivi Vegito Allora intanto Ricarichiamo un attimo La vita Perché non mi fido Ragazzi Non mi fido Affatto Anche se è quel Poco 6000 Che è Può tornare utile Allora Vediamo qua Vai Vegito Attacca Distruggi Elimina Super attack Perfetto Te Goten Vai così Anche te Super attack Vediamo se No Non ce la riesco a fare Le ho bloccate Vabbè Vai di rosso Sì Dovrebbe essere finita Finalmente ragazzi 100.000 di danno In arrivo Majin Bu Mamma mia 131.000 di danno Ragazzi Wow Vegito È troppo forte Hercule Hercule Battle Cards Non so quale Battle Cards Sia No È quella di Mr. Satan Quella da vendere Per i Moni Ok Ragazzi Andiamo finalmente A fare il Dockan Awakening Anche se prima Dobbiamo andare da baba Ragazzi Ok ragazzi Compriamo Baby Youth Form Per due 3000 3000 Cazzo di Monetine Di Satan Che se ne vanno Ma Possiamo finalmente Fare il Dockan Awakening Ok Trade Andiamo ragazzi Perfetto Ce l'abbiamo Ok ragazzi Eccoci finalmente Qua Andiamo a fare il Dockan Awakening Su Vegeta E Goten Andiamo subito Prima con Vegeta Ragazzi Ok Andiamo Mettiamogliele tutte Ragazzi Eccolo qua SSR Baby Vegeta Dockan Awakening Andiamo Sì Voglio farlo Sì Va bene Voglio farlo Andiamo ragazzi Eccolo qua Ok Tutti personaggini Inutili Dai Per favore Trasformati Ce la farà mai Oh Finalmente Ce l'ha fatta Vediamo un po' La carta com'è Dockan Awakening Wow Carina Ha perso un po' Lo stile che aveva Ma adesso Con calma La portiamo anche a OR Che così è molto più figa Perfetto Vegeta è fatto Ragazzi Eccolo qua Finalmente Vegeta è fatto Vediamo un po' All types HP And attack Più 15% Vabbè Non lo volevo Comunque usare Lo volevo solo Avere lì Ok ragazzi Andiamo anche Di Goten Ora Eccolo qui Anche lui Ecco come vedete Devo dire che mi piace Molto La carta di Goten È fatta veramente bene Ma andiamo ragazzi Dockan Awakening In corso Perfetto Sì Va bene Andiamo ragazzi Che si trasforma anche in Super Saiyan Vai così Ok Perfetto Eccola qua Wow Questa però invece è bella Questa ragazzi è veramente figa Dockan Awakening Completato Int type enemy Attack Meno 25% Ok Una leader skill Che non mi interessa molto No Forse ci può stare Forse ci può stare Un pochino proprio Ma vabbè Andiamola a vedere ragazzi Eccola qua Completa Wow Mamma mia ragazzi Figa Figa veramente Questa carta Va bene ragazzi Direi che anche per questo video Di Dockan Battle È tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi